La provincia di Mantova è sempre stata legatissima anche nel passato a grandi campioni della velocità. Nel corso degli anni la passione dei virgiliani non è mai tramontata, anzi è continuamente stata alimentata da grandissimi piloti che continuano a togliersi delle grandi soddisfazioni per sé e per tutti i loro fans. È il caso di Ivan Goi, 34 anni di Viadana, che qualche giorno fa ha conquistato in sella la Ducati il tricolore superbike al Mugello per il terzo titolo nazionale dopo i due collezionati con Aprile nella Stoc 1000 nel 2010 e nel 2012. Il pilota virgiliano è partito in gara con 19 punti di vantaggio su 25 in palio sull'inseguitore Matteo Baiocco, tester ufficiale Ducati. Col terzo posto di domenica si è garantito il titolo tricolore collezionando l'ottavo podio stagionale. Quattro successi targati Goi nel campionato italiano Superbike 2014 per una stagione trionfale che ha messo in evidenza tutta la grinta e la passione di un pilota che verso la fine della carriera si sta togliendo delle soddisfazioni senza fine.